... che è un premio alla legalità, che promuove la legalità in ogni campo, dalla cultura all'industria, all'imprenditoria, alla politica. E' un po' toccato a noi e ci siamo sentiti veramente un po' imbarazzati perché l'avamo insieme a persone che rischiano la vita tutto il giorno con lavoratori di giustizia, squadra antimafia, eccetera. E noi eravamo solo dei musicisti. Però queste parole in realtà dicono che cosa può fare la cultura, che in Italia è considerata un bene di lusso. In realtà Borsellino dice che la mafia è un problema di cultura. Non in senso restrittivo e puramente emozionistico, ma come insieme di conoscenze che contribuiscono alla crescita della persona. Tra queste conoscenze vi sono quei sentimenti, quelle sensazioni che la cultura crea e che ci fanno diventare cittadini. Apprendendo quelle nozioni che ci aiutano a identificarci nelle istituzioni fondamentali della vita associativa. E a riconoscerci in essi. La maggior parte della gente rispetta le leggi dello Stato non perché le tema, non perché tema la sanzione penale o civile che sia. Lo fa perché ritiene che sia giusto non uccidere o non sorpassare in curva. E se così non fosse, cioè se la gente rispettasse le leggi solo perché le teme, non basterebbero tanti carabinieri per il numero di persone che ci sono nel nostro paese. La maggior parte di noi rispetta le leggi perché sente il dovere di rispettarle.